Musica Esattamente come altra scuola, noi siamo un sindacato studentesco, nasciamo nel 1994 e noi quest'anno siamo nel ventesimo anno d'età e il nostro lavoro è su tanti livelli sicuramente essendo un sindacato anche noi abbiamo come principio fondamentale quello che è il lavoro e l'organizzazione di una rappresentanza studentesca formata e quindi anche all'interno degli organi di governance dell'università come ADISU, come il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ma anche negli stessi corsi di dipartimento noi portiamo avanti delle battaglie che vanno da quelle fondamentali sui diritti come può essere l'aggiunta di alcune specifiche non discriminatorie su quelle che sono la carta dei diritti dell'università a delle vere e proprie vertenze nel momento in cui un professore universitario salta un appello d'esame o nel momento in cui non viene riconosciuto il giusto numero di crediti formativi a uno studente che è andato a fare una verifica. Quindi ecco noi abbiamo un piano che è quello del lavoro quotidiano che è all'interno degli organi e all'interno della vita universitaria di tutti i giorni. Grazie al nostro lavoro siamo riusciti a ottenere una serie di sconti come abbonamenti per i pullman per gli studenti universitari scontati facendo equiparare la fascia degli studenti a quella universitaria a quella degli studenti dei superiori che era la nostra battaglia storica. Ci abbiamo la possibilità di far acquistare biglietti multicorse invece che a 13 euro, 8 euro all'interno delle università e tutto questo rientra in un piano in cui noi stiamo cercando di dare anche un'idea di welfare studentesco un po' diversa. È di recente approvazione anche la nostra battaglia per il medico degli studenti fuori sede perché fino all'anno scorso uno studente fuori sede per potersi curare con le nostre ASL doveva o rinunciare al proprio medico territoriale a casa o rinunciare a curarsi per quindi prendere un treno, tornare in Calabria, in Campania, in Toscana e andarsi a curare a casa. Da quest'anno grazie al lavoro congiunto e anche alla sinergia della nuova amministrazione università che è sicuramente più aperta della gestione del ventennio passato, diciamo così, è stato possibile andare a scardinare alcuni di questi concetti e il medico degli studenti è adesso gratuito e i studenti fuori sede ne possono suffurire senza dover per esempio appunto tornare al proprio paese d'origine. Questi sono alcuni esempi di quello che noi portiamo avanti all'interno dell'università con la rappresentanza quotidianamente. Poi ovviamente anche noi essendo un'associazione studentesca universitaria che si muove a Perugia soprattutto per quanto esiste anche il nostro collettivo ternano perché ovviamente l'università di Perugia ha appunto dislocazione a Terni, Narni e quant'altro. È ovvio che noi abbiamo anche una connotazione più cittadina, territoriale. Condividiamo insieme alla rete degli studenti medi uno spazio che ci è stato dato in gestione dalla CGL a Via Ritorta accanto alla Fontana in centro storico dove noi lì attuiamo una vera propria serie di servizi per quelle che sono fasce deboli o comunque noi abbiamo individuato come fasce bisognose di un aiuto. Ne faccio un esempio concreto. Noi facciamo un servizio di petizioni a prezzo popolare che coinvolge ragazzi delle superiori che chiedono aiuto a ragazzi delle università e che quindi poi si incontrano in sede e che a prezzi agevolati si dà una mano ai studenti universitari a sbalcare il lunario e ai ragazzi dei superiori a poter recuperare anche la didattica anche in periodi in cui magari la scuola non riesce a permettersi in servizio completo. Io ricordo benissimo quando andavo a scuola le 12 ore, le 15 ore che venivano date dalla scuola spesso non servivano per colmare le lacune e diciamo che questo è un servizio cuscinetto che ha dato i suoi frutti ma come le ripetizioni noi facciamo un servizio di orientamento universitario che al momento è assente nel nostro Ateneo. Il servizio di orientamento dell'Università di Perugia raccoglieva 20-30 persone fatte eccezioni per medicina e ingegneria. Quello che abbiamo organizzato noi in sinergia con la rete degli studenti ha raccolto centinaia di studenti in ogni facoltà, abbiamo fatto il giro di tutta l'Umbra, siamo stati ad Assisi, a Todi, a Terni e stiamo cercando di rilanciare un'idea di università ma quindi anche di città che Perugia ha un po' perso perché se un tempo Perugia era vista come un campus universitario naturale in cui i perugini stessi erano felici della presenza degli studenti, il centro storico era vissuto veramente come un campus universitario allargato proprio perché anche la sua conformazione lo rendeva di facile utilizzo in quel senso, sicuramente negli ultimi 20 anni complice la crisi economica, complice una serie di scelte sbagliate da parte dell'amministrazione precedente dell'università che noi continuiamo a pagare e continueremo a pagare per molto tempo. Questo trend si è invertito, si è invertito come dicevo prima con le iscrizioni che si sono dimezzate, con anche il nome del nostro Ateneo che è sicuramente peggiorato e anche con poi un riflesso su quella che è la cittadinanza perugina perché ovviamente quando tu hai 40.000 studenti in centro storico di un certo tipo, quando hai un centro storico che ha perso i suoi studenti e non investe più in alcuni settori, ma alcune persone che sono sedute a questo tavolo potranno spiegare meglio di me, ma appunto perché noi per esempio volevamo fare un cineforum? Perché lo studente universitario a parte per andare a bere non aveva più motivi per andare in centro perché non c'erano più i cinema, non c'erano più altri servizi anche culturali che ti permettevano di stare in centro storico con un altro tipo di atteggiamento, quindi sicuramente sì il lavoro sindacale all'interno degli organi per andare ad acquistare nuovi diritti, però anche il lavoro territoriale, tematico e fatto di veri e propri servizi per quelle che noi consideriamo fasce deboli. Grazie a tutti!